La donna di Raffaella Curiel per la primavera estate 2011 è una jolie madame dolce ed estremamente raffinata, un trionfo di romanticismo floreale ispirato a Botticelli, Kelly, Irving Penn, Alma Tadema o Sonia O'Keefe. Ecco allora i famosi curiellini, abiti in cadito e piato in organza dal blu copiativo al nero di una semplicità rarefatta, i piccoli tagliari dalle giacche a petalo su etere e gonne a corolla, mentre i colli sono un delizioso intriccio di fiori. Ma all'oggetto del desiderio è un cappottino in tela di cotone e lino, disegnato come un giardino di fiori dalla Curiel, foderato con lo stesso etereo chiffon dell'abito a quattro strati sorposti. La sposa poi ha un vero capolavoro botticelliano, un sogno disseminato di rose e anemoni, sul raso pesante in una delicata nuanza acquamarina con un corto velo che scende da una corona di fiori identici a quelli del vestito.